27 eternità sintetica magister a cura di roberto p domanda immaginiamo che esistano due personalità che sono state fissate per esempio nello stesso gruppo psicosintetico ora se poi una di queste personalità deve ritornare in terra per una nuova esperienza rimane però contemporaneamente fissata di là la sua esperienza passata e quindi la sua coesistenza con l'altra persona magister cominciamo a chiarire un concetto che in questo caso non si può parlare di personalità ma si deve parlare di individualità il che è molto diverso perché la personalità è una dimensione temporale ed una dimensione storica l'individualità è un principio informatore che determina questa dimensione quindi dobbiamo parlare di individualità ma noi dobbiamo intendere questa individualità non come un fatto limitativo in senso umano ma soltanto come un fatto espellente inteso nella condizione emozionale per cui l'individualità nel gruppo pur rappresentando una unità di emozioni espellente è la stessa unica emozione del gruppo quindi la coesistenza nella molteplicità dell'unico è un fatto unitario non differenziato anche se di per sé diviene differenziato e diviene individuato faccio un esempio io che vi parlo appartengo ad un determinato gruppo ma io che vi parlo mentre vi parlo non sono separato dal gruppo e non sono individuato in ciò che voi mi definite lo sono soltanto per una ragione sperimentale ma in realtà io sono il gruppo quindi tutte le mie esperienze passate che mi possono individualizzare per voi perché voi mi potete evocare con tutti i nomi che io ebbi nel tempo ed io vi risponderò personalizzandomi in tutti questi nomi ed in tutte queste personalità che ebbi tutto ciò è soltanto una necessità differenziativa che si impone per l'esperienza formale in realtà questa diversità è soltanto una vostra esercitazione non è una nostra condizione mi spiego nell'aldilà non esiste nessuna personalità la personalità che definisce la qualità dell'essere nella funzione del tempo e lo esercita esprimendolo cessa di essere con la morte di se stesso che è poi l'eternità sintetica del gruppo ecco tutto il gruppo partecipa di queste varie individualità e di queste varie personalità ne consegue che cosa che la vera personalità è il gruppo dei gruppi è la personalità unica cerchiamo di metterle in questo modo per capirci